Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Cominciamo oggi dall'immagine del satellite che ci mostra ancora degli annuvolamenti intorno al medio e basso Tireno. Si riconosce anche il centro di bassa pressione che da alcuni giorni insiste in queste zone e in effetti nelle prossime ore avremo ancora degli acquazioni dei temporali che interessano parte del sud. Vediamo con la Sardegna che vedrà nuovamente delle piogge sui settori orientali e meridionali, piogge temporali anche in Sicilia che sarà forse la zona maggiormente interessata dai fenomeni più intensi nelle prossime ore e qualche acquazzone anche nelle zone interne delle regioni meridionali. Però guardate nel fine settimana situazione in netto miglioramento al sud, questa zona di bassa pressione tende in qualche modo a esaurirsi quindi fenomeni sempre meno diffusi, domani in Sicilia solo qualche ultimo acquazzone però nel frattempo si avvicina una perturbazione al nord Italia, lo sfiorerà solo però qualche temporale domani sarà possibile sulle regioni di nord-est e questa perturbazione porterà anche aria leggermente più fresca nelle regioni settentrionali ma come abbiamo indicato si tratta solo di un primo lieve calo termico perché poi in realtà in settimana correnti ancora più fredde dirette verso l'est Europa si faranno sentire anche in Italia e quindi a partire da martedì le temperature nel nostro paese inizieranno a diminuire. Con questo è tutto ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti!